Nel 2019 abbiamo fatto la prima edizione, abbiamo avuto un grande successo, sempre il primo weekend di settembre, con 20 scuole di ballo provenienti da fuori Pesaro e quasi 2000 persone presenti. E quindi è stato un grande evento per la città, di grande successo, di piacere anche per i turisti, non solo per gli appassionati del ballo. Dopo due anni di Covid, quindi anche quest'anno abbiamo l'iscrizione di 20 scuole di ballo, il programma in linea di massima è questo, dalle 16.19 ci sarà lo stage con Luis Capasso, che è un maestro di ballo, coreografo di fama nazionale, e quindi le persone, sia turisti che pesaresi, oltre quelle di scuole di ballo potranno partecipare a questo stage, dovranno ritirare il braccialetto dalle 14 alle 16 presso il palco della Palla di Pomodoro. E poi dopo Cina, dalle 20 e 30, le scuole di ballo si esibiranno una a una sul palco, mentre tutti coloro che vogliono ballare possono ballare liberamente nella piazza. E quindi immagino io, se il tempo non ci fa lo sgambetto, sarà un grande successo anche quest'anno, quindi mi auto-elogio. L'organizzazione di Dance Mania, noi siamo del gruppo dirigente di Dance Mania, organizziamo per la seconda volta questo evento. L'evento si svolge alla Palla di Pomodoro, domenica 4 settembre, e quindi dalle 16.19 stage per imparare a ballare, dalle 21 in poi fino alle 24 ballo libero. Novità rispetto a due edizioni fa? Due edizioni fa abbiamo perfezionato un po' meglio il discorso dello stage, quindi sarà uno stage un po' più professionale, che non interessa solo il singolo ballerino, ma anche maestro di ballo. E quindi questa è un po' la novità. L'abbiamo diviso in due fasi, l'altra volta diciamo lo stage è stato un po' all'interno dell'evento, quindi quest'anno le due cose le abbiamo divise.